ade popolo di otrus network son tornato sono tornato qui con questo nuovissimo video di mv3 oggi una zona di lancio su ardat e vi volevo portare questo nuovo video come vi avevo già promesso appunto giocata con cecchino perché vi avevo promesso di portarvi qualche video anche di mv3 gli argomenti da parlare in questo video sono tanti il primo è che volevo fare appunto delle domande anche a voi se vi fa piacere che io registro video per otrus network grazie a loro sto aumentando anche io di iscritti però giustamente io mi dedico mi dedico appunto a otrus network e qualche volta il mio canale anche perché il mio canale ha solo 45 iscritti e c'è poca gente che mi segue e non tanta gente come otrus network e quindi a me anche anche a me fa piacere di appunto registrare video di per otrus network ragazzi scusate che a volte non riesco a parlare non riescono le parole ma ho delle ho difficoltà nel parlare no scherzo no scherzo ok comunque il primo video che hanno pubblicato su otrus network è stato appunto quello lì della partner che vi dico in ogni video che potete appunto ottenere la partner mandare anche voi i vostri video a otrus network veramente ragazzi fatelo perché è una network che merita veramente tanto e tra poco usciranno anche dei contest che i premi saranno molto belli e otrus network è un network aperto a tutti e a qualsiasi video qualsiasi tipo di video che rispetti appunto il copyright e il copyright e molte altre cose e la violazione della privacy e queste cose qui potesse fare vlog tutto tutto delle serie potete iniziare sono veramente dei ragazzi che meritano meritano veramente tanto io ho raggiunto uno staff di otrus network che mi ha veramente aiutato a mandare video a mandare video a parlare appunto con gli staff per vedere i video che appunto dovreste seguite su questo canale e poi cosa vi volevo dire se vi va passate anche sul mio canale e poi che vi volevo dire spero di non dimenticarvi nulla in questo video ah e comunque il mio primo video è stato quello lì appunto di presentazione che siamo entrato a far parte e già ci sono su mi piace e questo canale sale sempre di più iscritti ma oggi anche questo video sarà appunto per parlare di questa grande famiglia di otrus network e come me la godo a certi tutti però appunto me la godo a più iscritti e a più persone che la seguono ma anche noi saliremo appunto di iscritti se ce la mettiamo tutta come già vi ho detto è una partita su hardback e zona di lancio giocata solamente con il cecchino msr con la mimetica non mi ricordo con la mimetica non mi ricordo le specialità in questo erano ricognitore no ricognitore assassino qua è bellissima la kill quindi quello mi ammazzo e lo ammazzo col c4 il risultato sarà un po' penoso però devo dire la verità mi sono divertito in questa partita non ho sclerato e cose varie e ora dovrò scegliere anche il titolo per questo appunto questo bel video perchè di solito a me mi da problemi a registrare mi da problemi a registrare che c'è un po' di lag e quindi li devo prendere sempre dal cinema ma non le posso registrare in diretta perchè se no le tacche si abbassano come voi sapete che la connessione è tutto su code e anche questo video si sta per giungere al terminal se vi va di aggiungermi su skype vi lascerò il mio nickname in descrizione mi chiamo djmanuele tabbo123 come vedete qui c'è una feed di quick scoop poi ho fatto anche delle partite su quartier generale ragazzi ve la consiglio se avete Mv3 se avete Mv3 su PC abbiniatemi sono MrPentis e mi divertirò a fare delle partite con voi e niente ragazzi questa partita di Mv3 e questo video per Otrus Network è giunto al termine vi voglio bene baci e abbracci ci becchiamo nel prossimo video ciao 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 ciao